Invio a video. Dai che ci prepariamo. Bordel 2. Sendo davanti a te. Vai Vigo. Sendo davanti a te. 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 Vai. All Livre. Bravo. Sendo davanti a te. Vediamo che c'è. Vediamo che c'è. Pedala. Lidd' davanti a te. Modificare. Vediamo che. La la la. Vediamo le atteme, oh di là. Che meno. An beige alto si ass love con la fancona. Quidi chemere. Per 원리. Sendo davanti a me! bravo, quando si arriva a cura puoi mettere il gioco e chiude bravo ok bravo guarda che colpite giù ok bravo chiude giù, bravo occhio fino ad avanti ok va bene ok è morbido ma ti va divertente va bene basta un po' il sedile adesso che bisogna spingere vai spingi 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 bravo ok basta un po' adesso c'è il sedile che c'è da spingere nella salita spingere 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 Sì è un'ottima torsione è come si vede è un'ottima è un'ottima è un'ottima è un'ottima Questo è uno dei terreni migliori, te lo dico, sì sì, bravo, scusa qua, 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 Occhio, piano lì eh, sei, andi, ma che le radici eh, ma che le radici, sono ciccivolose quelle, come il ghiaccio, wow, questo qua eh, grazie.